Una enorme distesa di pannelli fotovoltaici, grande quanto la superficie della Repubblica di San Marino. La centrale solare di Badla, che sorge ai bordi del deserto del Tar, è uno dei luoghi chiave della strategia dell'India per diventare leader nella produzione di energia pulita. Al momento il paese asiatico è tra i primi tre al mondo nelle emissioni di CO2, ma il premier indiano Narendra Modi, alla COP26 di Glasgow, ha annunciato la svolta. Una svolta più lenta del previsto, ma efficace almeno nelle intenzioni. L'India aumenterà la sua capacità energetica non fossile 500 gigawatt e soddisferà il 50% del suo fabbisogno energetico da fonti rinnovabili entro il 2030. Ridurrà le sue emissioni totali di energride carbonica previste di un miliardo di tonnellate e ridurrà l'intensità di CO2 per la sua economia del 45%. Per questa svolta l'India raggiungerà l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2070 e non nel 2050. Come arrivare a questo obiettivo? Semplicemente sfruttando le caratteristiche del territorio. Siamo un paese tropicale, beneficiamo di oltre 300 giornate di sole all'anno. L'energia solare è una scelta ovvia, ha spiegato Arunaba Ghosh del Consiglio indiano dell'energia. Quando un agricoltore può produrre l'energia necessaria per il suo lavoro attraverso i suoi pannelli solari, siamo sulla via della transizione energetica. Certamente avremo bisogno di grandi centrali solari per avere una grande capacità, ma credo che le migliori opportunità passino dalla creazione di una rete diversificata di rinnovabili, diffuse su tutto il territorio. Aggiunto, il Rajasthan si sta candidando alla produzione di energia solare nel deserto del Tar. Un altro progetto per le rinnovabili è stato lanciato l'anno scorso nel Gujarat. Gli uomini più ricchi d'India stanno investendo enormi capitali nel settore. E non solo per una questione di opportunità, ma perché per tutti in India l'urgenza è evidente. Un paese di 1,3 miliardi di abitanti dove l'urbanizzazione sfrenata spinge alla richiesta sempre maggiore di energia e dove, secondo un rapporto del 2019, si trovano 21 delle 30 città più inquinate del mondo.